Questa tenda qua l'ho da 20 anni quasi, 10 anni quasi, 10 anni quasi, ho fatto tanti di quei campetti, tanti, tanti, tanti campetti, è una forte munizione con noi in Marocco, ha tenuto tanta di quell'acqua questa tenda, ti giuro, 10 anni che ho questa tenda, ma forse di più, c'è allora una ancora, eh, la 1 mi hai detto che danno mancia, fa una corra, ma non lo so, la corra si però, e allora l'hai fatta.